Gentili telespettatori, buona giornata. Formigli sul caso che abbiamo definito Soumaoro, che ormai tutti conoscono, dice mi erano arrivate certe voci. Anche a un giornalista televisivo, in tempi non sospetti, arrivano certe voci? Allora, capite che non ha senso. A Formigli, prima che venisse fuori questo caso, erano già arrivate voci. Allora era ben famoso questo Soumaoro e queste voci. Ecco, mentre il deputato con gli stivali che doveva rivoltare il Parlamento come un calzino, l'abbiamo visti, quelli che dovevano aprire la scatoletta di tonno sono diventati la casta, questo che doveva con gli stivali cambiare la politica italiana invece dopo 30 giorni è venuto fuori di tutto e di più. Si è autocacciato dal partito, autosospeso. In realtà poi i suoi capi hanno detto che gli hanno chiesto di autosospendersi, quindi si è autosospeso invece di essere sospeso dai capi. Il conduttore di La 7, a Piazza Pulita con Rado Formigli, nel giorno del suo addio a Verdi Sinistra Italiana, uno scoop, se si considera che il deputato avrebbe potuto difendere sé e la sua famiglia dalle accuse che ricadono sulle loro cooperative. Invece l'ospitato è stato un vero e boomerang. Dice, non conoscevo Sou Mauro prima dell'intervista a Piazza Pulita, dice Formigli. Per varie ragioni non era mai stato ospite del programma. Quando l'ho incontrato a pochi secondi dalla fatidica lucetta rossa che segnala l'inizio della diretta, ho pensato, questo uomo è completamente solo. Esordisce sulle colonne di L. Una sua sensazione di Formigli, un uomo completamente solo. Secondo Formigli il parlamentare sarebbe sotto attacco incrociato, attaccato e deriso dalla destra, abbandonato di colpo dalla sinistra. Eppure è qui e la critica è troppo facile. Sou Mauro non è indagato. Comunque non è indagato, dice Formigli. È giusto. Ma stando a quanto ha ammesso lui stesso, non è un mistero che sapesse almeno in parte quando stava accadendo nelle cooperative. Certamente consapevole degli stipendi non pagati e dei diritti negati a lavoratori e migranti nell'azienda di moglie suocera. Non era un grosso enigma da indagare, dice Formigli. Confesso che più volte nell'ultimo anno mi erano giunte voci. Allora, prima di andare avanti, lui dice Sou Mauro era consapevole che non pagavano gli stipendi, che non davano diritti ai lavoratori. Ecco, aggiungo io, lui che girava l'Italia, andando a scovare quelli che mancavano nei diritti verso queste persone, lui sapeva di quelli in casa sua, ma non diceva nulla, perché era a casa sua. E così Formigli dice Confesso che più volte nell'ultimo anno mi era giunta voce di malumori e contraddizioni, di lamentele nel mondo sindacale pugliese, l'epicentro della sua tumultuosa ascesa. Si parlava di un uomo spregiudicato, accentratore, troppo ambizioso, che aveva costruito un sindacato, la lega abbraccianti, a suo completo servizio. Caspiterina, che belle voci che erano arrivato, eh? Spregiudicato, accentratore, troppo ambizioso, costruito un sindacato a suo completo servizio. Caspiterina. Non è bastato neppure questo a far cambiare idea al conduttore, convinto che Soumaoro fosse l'anti-Salvini autobiografia del ghetto e del suo riscatto. Per questo è stato candidato dalla sinistra radicale. Ovvio, è stato candidato come anti-Salvini che tornava al governo. E proprio a questa sinistra Formigli non manca di lanciare frecciate. Forse a sinistra, dice il conduttore, oltre a rimettere piede nei territori, dovrebbero cominciare a parlare di idee. E le galoche, casomai, indossarle dopo. E lì Formigli dice, la sinistra non va più nei territori, cioè non esce dai palazzi del potere in centro Roma. Questi manco vanno ad Ostia, col trenino, troppo lontano, troppo faticoso, troppo caldo su quel trenino. Forse a sinistra, oltre a rimettere piedi nei territori, quindi non ci sono, dovrebbero cominciare a parlare di idee. E gli stivali, casomai, li metti dopo. Quindi sta dicendo che è una sinistra che non esce dai palazzi e che non ha idee. Caspiterina, che bella descrizione della sua area politica. E facendo capire, al posto di costruire personaggi con gli stivali? Casomai, gli stivali, metteteveli dopo, prima andate in giro dalla gente. Cominciate a parlare di idee prima di mettervi gli stivali, o di trovare l'uomo con gli stivali che può diventare l'antisalvini e cercare di fare un'opposizione politica improntata ad essere gli antisalvini, gli antimeloni. Perché Soumaoro era progettato politicamente per diventare l'antisalvini e l'antimeloni, quei due cattivoni di centrodestra che vogliono fermare l'immigrazione clandestina. Lui era perfetto, era il deputato con gli stivali. Poi si scopre che gli stivali gliel'hanno prestati. Lui non ha mai fatto il bracciante in vita sua e i video che trovate sono finti, cioè lui ha fatto finta di lavorare con gli stivali, ma era tutto costruito per i social. Un uomo, come dicono le voci arrivate a Formigli, un uomo troppo ambizioso, spregiudicato. Cosa vuol dire? Che faceva di tutto per raggiungere il suo scopo, dato dalla sua troppa ambiziosità. Spregiudicato è troppo ambizioso. Accentratore. Faccio tutto io perché? Ecco, naturalmente vi dico una cosa. L'essere troppo ambizioso non è un reato. L'essere un uomo spregiudicato non è un reato, neanche essere accentratore. Pertanto qui possiamo fare una valutazione morale, ma non una valutazione giuridica, perché lì nell'essere un uomo troppo ambizioso non c'è reato. Puoi solo fare delle valutazioni visto il contesto nel quale si è mosso questo uomo troppo ambizioso, che sapeva di quello che succedeva nelle cooperative della famiglia, però si girava dall'altra parte e andava in giro per l'Italia a dare la caccia a quelli che mancavano di rispetto con i diritti ai migranti, ma in casa sua si girava dall'altra parte. Perché? Potete immaginare il perché, ovviamente. Per fortuna che è venuto fuori questo caso. Vi dico veramente per fortuna che è venuto fuori questo caso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.